Ciao Remenghi, guardate che condizioni con i mamme, si è venduto la tavola, le cariche, i mamme si vanno a tenere o a sentire, e mi ha detto Fabietto che la prossima volta mi mette sotto il giro scale chi del condominio qualche pollinare delle galline. Comunque guardate, allora stasettimana qua sul giornale politica ne era molto poca, ho guardato anche qui su Facebook e tutte queste cose qua, si, poche cose, parla dei ricci, che non sa cosa fa soffiò, i problemi delle famiglie fra Delori, non sa cosa fa con la storia dell'hotel Arco, niente in tutto insomma. L'altra notizia era l'assessor nuova, la Girelli, quella stasettimana qua, l'era per ben due volte sul giornale la foto, una l'ha fatta con te, l'era trovare una bicciotta di 103 anni, quell'altra invece l'era insieme all'assessor Floriani, l'ex assessor Floriani, dove che la dice che Adela fa un'operazione d'ascolto e dopo la lascerà la sua impronta. Ecco, voi sapete che è una regola del giornale, tutti i giornali, anche quei nazionali, c'è, ti vai sul giornale, ogni cinque voti ti può dire nessuna volta, ecco, e l'ha costruito volte qui che nella stasettimana qua, l'ha raggiunto il bonus e penso che sul giornale la vedremo subito dopo Santa Lucia o per la Befana. Tra pochi dì scomincerà la Pasqua musicale arcense, le trent'anni penso che la, che la, che continui a farla, no? Ecco, anche a Stamm non cambia proprio niente, gli toglie ancora quel, quel, quel toder lì, quel direttore d'orchestra, toder lì, brasca, quel sior che, che fra l'altro, ha dato anche la cittadinanza onoraria di Arco, non sa neanche lui perché, comunque, ha dato. Allora, continueremo ancora a droppare i tedeschi per tutto quello che riguarda la musica, la musica, la musica, di un certo, di un certo livello, come ad esempio quella del, 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 del Polaco, il concerto che l'aveva fatto a Stista sul Castel, ecco. Noi però del Telegarda al Trentino, eh, gaveressimo anche un'alternativa su queste robe qua, perché, eh, noi conosciamo tante aziende dei nostri, proprio paesani nostri, buoni di cantare e buoni anche di sostituire i tedeschi. Allora, siamo in giro con il regista, il noto regista, mio amico, il Giampaolo, Giampaolo Rossi, no? E abbiamo filmato delle persone di Arco, buoni di cantare e abbiamo fatto una specie di rassegna musicale. Ecco. Questa la manderemo in onda, così vedremo anche voi se potremo sostituire o no i tedeschi. Allora, da Telegarda Trentino vi saluto e mandiamo in onda i provini che abbiamo fatto dentro per la città di Arco. Alla prossima! Si lanciano il cielo le guglie dentate, discendono dolci le verdi vallate. profumano i paschi, biancheggiano gli ulivi, esultano le messi le viti sui plivi. O puro bianco di cime nevose, suave o lezzo di vivi di fior, di vivi di fior, rosseggianti su coste selvose, dolce festa di vaghi color. Un popol tenace produce la terra che in domiti sensi nel cuore riserva. Italico cuore, italica mente, italica lingua, qui parla la gente. O puro bianco di cime nevose, suave o lezzo di vivi di fior. rosseggianti su coste selvose, dolce festa di vaghi color. Custode fedele di sante memorie, nel... Guarda, l'ho sbagliato. Continua! che porti nel cuore sconfitte vittorie. Impavila veglia il vallico alpino, o gemma dell'alte o amato Trentino. O puro bianco di cime nevose, suave o lezzo di vivi di fior, di vivi di fior, di vivi di fior. Rosseggianti su coste selvose, dolce festa di vaghi color. O puro bianco di cime nevose, suave o lezzo di vivi di fior. Rosseggianti su coste selvose, dolce festa di vaghi color. O puro bianco di cime nevose, suave o lezzo di vivi di fior. Rosseggianti su coste selvose, dolce festa di vaghi color. Basta? Basta. NMC. wenca si conti. Uncana miatticina. Questa.